Come? Ho delle visioni Si prologa? No, è tutto naturale Che succede? Cos'è la foto? Io tu Paolo, stanotte fai un sogno e io te lo traduco in un'immagine lo fotomonto Lo fotomonto? Sì Ma io per esempio non sogno quindi che foto Con cui vedete che ce l'ha la signora? E basta, è finito La signora fotomonta Se lei non c'ha la foto se lei non c'ha la foto lì mi devonta però più di tanto ce l'ho fatta la signora Prego